Nel weekend di ferragosto sono scattate le pattuglie anche notturne sul tutto il litorale, sulle strade e nei centri di maggiore affluenza anche per la prevenzione degli assembramenti. Il ferragosto del 2020 a Castellabate è trascorso sotto il segno delle misure di sicurezza imposte dal coronavirus grazie alle operazioni guidate dal comandante della polizia locale, la dottoressa Manola D'Amato, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, le altre forze dell'ordine, i volontari del progetto Spiagge Sicure, le guardie ambientali e la protezione civile. Nessun falone e bivacchi sulle spiagge come disposto dall'ordinanza sindacale numero 37 2020. Circa 300 bottiglie di alcolici e superalcolici, 150 ombrelloni e attrezzi da spiaggia lasciati in custoditi sequestrati, oltre 300 verbali per violazione del codice della strada. Il vice sindaco di Castellabate, Luisa Maiuri, dichiara in merito alle operazioni svolte un ferragosto diverso ma che ha coinvolto moltissimo le nostre forze dell'ordine e che ringrazio per l'impegno dimostrato in questo periodo difficile. Nel prosiegue dell'estate i controlli continueranno incessantemente ma mi appello al senso di responsabilità di ognuno con l'obiettivo di preservare la salute di tutti.